Si attende un amore, si attende una parola, si attende un gesto, si attende un appuntamento, si attende una guarigione. Bisogna saper attendere. Senza la frenesia contemporanea, le cose si assaporano anche nell'attesa. E poi ci vuole pazienza anche nei rapporti. Ormai viviamo in un mondo dove tutto si tende a cambiare se non funziona. Io sono cresciuto in un'epoca dove le cose quando non funzionavano si aggiustavano. E quindi se uno impara ad aggiustare, quello che ha può conservarlo a lungo.